Luigi Gubitosi è stato nominato nuovo direttore generale della RAI. Cosa ne pensa di questa scelta? Una scelta seria, un manager che viene dall'esterno, che può assicurare alla RAI quella visione e quella capacità di amministrarla come fosse un'azienda, quello che è mancato in questi anni alla RAI. Certo, dovrà dimostrare autonomia e capacità di farlo resistendo alle pressioni del centro-destra. Ci sono state delle polemiche per il compenso di Gubitosi. In un periodo di spending review molti dicono che non si può dare 650 mila euro l'anno a un manager. Cosa rispondi? Che è stato un passo falso da parte del nuovo Consiglio di amministrazione e che è una scelta che va rivista. Non solo per il compenso, che è assurdo. Noi parliamo di una cifra che non ha senso in un momento del genere per il Paese, ma neanche per quell'azienda che vive del lavoro di precari che guadagnano 600 euro al mese. non 600 mila euro. E questo ovviamente è un problema. Ma anche per la formula contrattuale, cioè è stato assunto a tempo indeterminato. Ora di solito in un Paese normale se uno fa il manager e ha un compenso del genere almeno non ha il posto fisso assicurato. Il posto fisso forse è meglio garantirlo a qualche precario.